Sostenibilità e tecnologia, lockdown e ripresa, ma anche turismo e territorio, tanti temi trattati nello speciale ripartenza sostenibile al quale hanno partecipato in videocollegamento negli studi di Cilento Channel l'amministratore delegato Enel Francesco Starace e il sindaco di Castellabate Costabile Spinelli. L'amministratore delegato Enel è legato al Cilento in quanto cittadino onorario dalla 2015 di Castellabate, territorio nel quale, tra i mille impegni, ama trascorrere il più tempo possibile per godere delle bellezze naturali e dell'accoglienza dei cittadini, che lui definisce persone rare e vere, un territorio che è stato preservato, come dichiara il sindaco Spinelli, anche nei difficili momenti di crisi sanitaria e blocco totale. Castellabate è risultato covid-free grazie anche ai massicci controlli effettuati. Come si fa a ripartire dopo il lockdown dovuto all'emergenza sanitaria? Per l'Italia è fondamentale che riparta all'Europa, la sostenibilità sarà il nostro futuro, una transizione che era comunque in atto ma che in questo momento deve e può accelerare. L'amministratore delegato Enel ha le idee chiare, insomma bisogna attrarre il bene dagli insegnamenti ricevuti durante la fase più critica e riscoprire un nuovo modo di lavorare, incontrarsi e stare al passo coi tempi. Puntare alle nuove tecnologie, su una connessione internet veloce e stabile per tutti, diventata un bene primario. Castellabate ci crede molto, infatti il Comune ha già pensato a soluzioni tecnologiche per affrontare la stagione turistica ai tempi del covid-19. Il primo cittadino e il cittadino onorario di Benvenuti al Sud dimostrano ancora una volta, anche durante il dibattito televisivo, che è possibile affrontare il futuro con la positività tipica del Sud Italia.